Buongiorno, parliamo con M. Incocciati della Contarp Inail, in quanto relatrice a un convegno che si è tenuto ad Ambiente Lavoro Convention, si è già tenuto? Sì, si è tenuto questa mattina dedicato al settore della metalmeccanica e agli adempimenti del regolamento RIC nel comparto metalmeccanico. Ecco, noi come punto sicuro ci siamo occupati lungamente e diverse volte sia dei regolamenti europei in materia di sostanze chimiche. Sia proprio nel riguardo al problema degli adempimenti, perché effettivamente emergono un sacco di difficoltà in Italia per quanto riguarda le nostre aziende, e anche in specifici comparti poi in realtà. L'anno scorso ci eravamo occupati per esempio dell'edilizia e quest'anno ci occupiamo in particolare di metalmeccanica perché c'è questo convegno molto interessante che c'è stato appunto l'Ambiente Lavoro Convention. Detto questo, allora, lei ha partecipato come relatrice con una relazione sul ruolo dell'INEIL nella gestione del rischio da agenti chimici nell'industria metalmeccanica. Abbiamo presentato un contributo in questa occasione dedicato all'analisi dei dati infortunistico e tecnopatico del comparto nel triennio 2013-2015 e questo perché i dati che l'istituto assicuratore raccoglie e gestisce ai fini statistici e informativi hanno sicuramente una rilevanza nell'approccio alla gestione del rischio chimico in senso operativo, quindi sia per mettere in atto delle azioni di ricerca, sia per favorire tutti i processi di innovazione tecnologica. Riteniamo che la conoscenza dei trend sugli infortuni e le malattie professionali sia una base conoscitiva fondamentale per il datore di lavoro per la gestione del rischio chimico. È un trend che si è avvalso anche dei dati della banca dati statistica dell'INEIL, una banca dati importante che può dare comunque quando c'è un'analisi che è fondamentale, appunto questa tipologia di analisi, degli strumenti in più per andare a fondo delle cause, delle problematiche e pensare magari anche a delle soluzioni. Sì, certamente ci siamo rivolti alla consulenza statistico attoriale dell'istituto e abbiamo chiesto alla consulenza di fare per noi una ricerca secondo criteri che facessero emergere il rischio chimico sia per ciò che riguarda gli infortuni che le malattie professionali, quindi certamente la base dati è quella degli archivi aggiornati a ottobre dello scorso anno, anche se abbiamo scelto un triennio di osservazione per il quale fosse possibile disporre di dati consolidati, quindi infortuni indennizzati e malattie professionali denunciate all'istituto assicuratore. Partiamo dai dati, dunque cosa ci dicono questi dati riguardo ai infortuni e malattie professionali nel comparto metalmeccanico e riguardo al rischio chimico? Siamo partiti per poter interrogare la banca dati della consulenza statistico attoriale dalla definizione del gruppo di tariffa, quindi dalla tariffa dei premi INAIL che suddivide le lavorazioni in dieci grandi gruppi sulla base delle affinità, delle omogenità dei cicli di produzione. Per ciò che riguarda gli infortuni, la nostra indagine ha portato all'evidenza che nell'ultimo triennio, appunto il triennio 2013-2015, sono stati indennizzati dall'istituto assicuratore oltre 2200 infortuni, con una media di circa 760 infortuni l'anno. Di questi quasi 200 sono infortuni gravi, cioè qui corrisponde un numero di giorni di indennizzo superiore ai 40 e uno è un infortunio mortale. Questi eventi abbiamo poi cercato di studiarli attraverso, interrogando la banca dati, attraverso le variabili del sistema ESAV che INAIL adotta già dagli anni 90, che permette diciamo di ricostruire cause e circostanze degli infortuni e questo proprio per poter fare un focus sugli infortuni di natura chimica. E cosa è venuto fuori da questa analisi, attraverso questa modalità di analisi in realtà? È venuto fuori che molti di questi infortuni sono connessi a un contatto attraverso la pelle e gli occhi e quindi la maggior percentuale di questi oltre 2000 infortuni è attribuibile a un contatto con un agente chimico per via termico attraverso gli occhi e poi c'è una possibilità di infortunio anche per via inalatoria. Sicuramente per via ingestiva gli infortuni sono molto più esigui in numero. È uscito anche come evidenza dello studio che molto spesso sono interessati da eventi lesivi i lavoratori che svolgono la mansione di carpentiere in ferro, secondo la codifica che dà Istat di questa mansione e questo è compatibile con la produzione italiana che è soprattutto la produzione della metallurgia cosiddetta secondaria, cioè i processi di rifusione a partire da rottami e quindi la produzione di semilavorati a partire da processi di rifusione. Altre evidenze riguardano la prevalenza degli infortuni in ambiente di laboratorio o officina piuttosto che in altri ambienti di lavoro tipo area di bide a magazzino o altro. Le chiederei tuttavia anche se è stata fatta un'analisi non tanto solamente legata al comparto metalmeccanico quanto al confronto tra il comparto metalmeccanico e altri comparti. O banalmente le riformulo la domanda in un modo differente. Perché hanno scelto il comparto metalmeccanico? Quest'anno dice? Io ero presente anche, noi eravamo presente come Contarp anche al convegno dello scorso anno che era dedicato all'edilizia e mi ricordo che proprio a valle di quel convegno il comitato organizzatore e spesso INAIL è componente diciamo di questo comitato, decise di concentrare l'attenzione su un comparto che in Emilia Romagna è particolarmente importante, presente e quindi lei consideri che il 9% di tutte le aziende assicurate all'INAIL afferisce al comparto della metalmeccanica che è vastissimo, va dalla produzione di oggetti metallici di grandi dimensioni, macchinari, mezzi di trasporto, trattori, aerei, navi fino alla minuteria. Quindi veramente c'è dentro l'universo mondo diciamo delle attività con un impatto sull'industria manufatturiera estremamente positivo e importante. è proprio di questi giorni anche la notizia, al di là poi delle interpretazioni politiche che al dato si vuol dare, che l'Italia nell'ultimo anno ha registrato un aumento della produzione industriale di più del 4%, le parlo di una base annua diciamo di confronto tra il luglio dello scorso anno e il luglio di quest'anno e affare da traino in questo aumento nella produzione produttiva è proprio la produzione delle automobili e la produzione dei grandi macchinari e entrambe queste due tipi di produzione afferiscono al comparto. Quindi sicuramente ha un ruolo in tutti i paesi industrializzati strategico a livello di valore aggiunto, di numero di occupati e poi anche perché attraverso i macchinari prodotti diventa un po' un volano per la trasmissione dell'innovazione tecnologica ad altri settori produttivi. A questo punto lei ne ha già fatto cenno però se possibile approfondiamo un po' il tema delle malattie professionali del comparto e riguardo gli agenti causali specialmente in relazione ai rischi chimici che voi avete incontrato perché effettivamente credo che anche conoscere quelle che sono le malattie che si possono contrarre in qualche modo permette anche all'operatore o ancor più al lavoratore di essere consapevole dei rischi nei quali puoi incorrere se non ci sono misure di prevenzione indicate. Certamente. Abbiamo scelto di interrogare in questo caso la banca dati utilizzando il criterio della ricerca per codice nosologico M che insieme all'agente causale ci ha permesso di discriminare le patologie correlate ad un'esposizione ad agenti chimici ed è emerso che nello stesso triennio di osservazione che era il focus dello studio per gli infortuni sono state denunciate all'istituto assicurativo più di 9.000 patologie di queste alcune tabellate ossia per le quali c'è un riconoscimento sancito da una serie di tabelle che il legislatore redige e aggiorna periodicamente e un numero congruo comunque anche di malattie non tabellate per le quali cioè l'onere della prova è a carico del lavoratore e quindi anche l'indennizzo da parte di INAIL è subordinato alla dimostrazione che la causa della patologia è di tipo lavorativo. Le principali evidenze sono il fatto che il comparto registra un elevatissimo numero di patologie delle vie aeree di gravità variabile, più del 70% delle oltre 9.000 malattie denunciate sono malattie dell'apparato respiratorio, si va dalle semplici asme o le bronchiti fino a tumori della pleura e patologie tumorali diciamo molto serie. Un elevato numero, le percentuali poi le visualizzeremo conduce anche alla morte del tecnopatico, quindi oltre 2.000 sono le patologie alle quali è seguito un decesso diciamo dell'assicurato e per quello che riguarda gli agenti causali di cui mi chiedeva prevalgono su tutte le esposizioni ad amianto e ai materiali contenenti ad amianto ma anche significative sono le esposizioni agli idrocarburi policiclici aromatici e a classi di composti che rientrano nel calderone delle colle, vernici, prodotti diciamo per la galvanizzazione eccetera e poi ci sono anche delle esposizioni a cromo ai prodotti del cromo. Allora concluderei questa intervista, è una cosa che generalmente non chiedo ma il convegno si è già svolto per cui credo che ed è giusto che sia così che i convegni oltre a essere un appuntamento per le tante persone che poi li seguono perché i regolamenti europei riguardo le sostanze chimiche interessano molte aziende e molti operatori, sono anche un momento di incontro, di confronto tra tecnici, tra studiosi, tra ricercatori che presentano diverse relazioni. Al di là della sua relazione, cosa sono le cose che secondo lei sono state più interessanti che sono emerse dalle altre relazioni a questo convegno? Credo che siano emerse in modo abbastanza evidente le difficoltà proprio che le aziende hanno di utilizzare le informazioni che derivano dalle schede di sicurezza che arrivano in aziende in accompagnamento alle sostanze, alle miscele che entrano poi nel ciclo di produzione aziendale e c'è la difficoltà di utilizzare queste informazioni ai fini della valutazione del rischio chimico aziendale ai sensi del testo unico dell'81-2008. Quindi oltre alle difficoltà già conclamate secondo me di essere rispondenti agli adempimenti del RIC ci sono delle difficoltà nel tradurre ciò che gli adempimenti prevedono in azioni concrete di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Dunque emerge la difficoltà che le normative di prodotto impattino nel modo giusto sulle normative sociali e questo credo che sia oltretutto di interesse primario per l'istituto che rappresento perché l'istituto Linaile è impegnato nella gestione del rischio chimico professionale. La ringraziamo. Grazie a lei. Buongiorno.